Per la prima volta da quando è stato istituito da San Giovanni Paolo II, l'incontro mondiale delle famiglie arriva negli Stati Uniti. Nel settembre del 2015, centinaia di migliaia di famiglie si raduneranno a Filadelfia, patria dell'indipendenza americana e della libertà religiosa. L'incontro mondiale delle famiglie è un meeting internazionale che vuole celebrare il grande dono che Dio ci ha fatto nella famiglia. Si terrà dal 22 al 27 settembre 2015 a Filadelfia. Penso che è davvero importante per il mondo che il prossimo meeting internazionale di famiglie sarà in Filadelfia. Ho toccato l'importanza di questo plato per la storia, non solo per gli Stati Uniti, ma per tutto il mondo. San Giovanni Paolo II ha stabilito che l'incontro mondiale delle famiglie debba tenersi ogni tre anni in differenti nazioni del mondo. Il congresso del 2015 si terrà da martedì 22 a venerdì 25 settembre presso lo spettacolare Pennsylvania Convention Center. Un raduno internazionale di esperti e relatori, i migliori pensatori del mondo, presenteranno relazioni e attività sul matrimonio e sulla famiglia. Famiglie con bambini di tutte le età, single, religiosi, si raduneranno per ascoltare questi importanti relatori e gioire per la loro fede durante tutta la settimana. Alla fine del congresso si terrà la tradizionale festa delle famiglie. Questa manifestazione artistico-culturale si concluderà con cinque famiglie provenienti dai diversi continenti, che racconteranno al Santo Padre come la fede le ha aiutate a vivere la loro vocazione di sposi e di famiglie. L'incontro culminerà con la Santa Messa Papale sulla Philadelphia's Benjamin Franklin Parkway, dove si spera che il Santo Padre, attorniato dai tanti vescovi, preti, diaconi e fedeli presenti, chieda a Dio di rafforzare le famiglie, unendole con il dono di Gesù sulla croce, reso presente dall'offerta della Santa Eucaristia. Un catechismo ufficiale per studenti per la preparazione dell'evento sarà disponibile un anno prima. Puoi sapere di più sull'incontro, trovare gli ultimi aggiornamenti, sapere come iscriversi come volontari e organizzare la tua partecipazione su worldmeeting2015.org Puoi anche rimanere connesso con Facebook e Twitter.